intimidisce non è vero hai idea di chi ha calcato le asse di questo palcoscenico prima di te gerard limpage ellen hayes jason roberts marlon brano e adesso rigantons grazie per essere venuto con così poco previso mike io lo apprezzo davvero tanto è il mio lavoro e quindi hai scritto tu l'adattamento di questo spettacolo si l'ho scritto io e fai anche il regista e il protagonista esatto sì sì molto ambizioso grazie beh non c'è che dire il teatro è molto bello non so se posso dire lo stesso del tuo spettacolo ma facciamo una prova d'accordo ah bene non pensavo volessi già metterti a provare l'anteprima è domani quindi mettiamoci al lavoro va bene sì non so se vuoi fare prima tavolino no facciamone un pezzo d'accordo facciamone soltanto un pezzo mi va di provare ok allora prendi a pagina no lascia stare quello sto a posto che senso lascia stare il copione dammi un'imbeccata che cosa vuol dire dammi una battuta in che senso va bene va bene allora come preferisci fammi pensare solo un secondo ok ehi io sono la persona sbagliata per chiedere va bene non lo conoscevo nemmeno quel tizio voglio dire non saprei uno dovrebbe conoscere i particolari ma io credo che tu dica che l'amore è qualcosa di assoluto è questo che dico che l'amore è un qualcosa di assoluto sì sì ok sì sì il genere di amore di cui sto parlando è un qualcosa di assoluto il genere di amore di cui sto parlando non ti fa uccidere le persone come fai a conoscere le battute scusa vabbè è una cosa che ho io una specie di donaldi wow davvero dai andiamo ormai è più di un mese che aiuto leslie con le battute ormai sono tutte qua dentro ce l'ho pensato nella memoria ehi senti adesso proviamo a rifarlo prova a ritardare ehi sono la persona sbagliata a cui chiedere va bene non lo conoscevo nemmeno quel tizio non saprei uno dovrebbe conoscere i particolari ma io credo che tu dica che l'amore è qualcosa di assoluto sì non voglio posso provare a dire una cosa se ci sono la pagina lascia stare quello ascoltato ascoltami sono una persona sbagliata a cui chiedere lui dice ma qual è l'intenzione che c'è dietro il discorso vuole cambiare un attimo argomento forse è stressato per il matrimonio ok il fatto è questo ci sono poi quattro battute nelle quali tutti ci fondamentalmente le stesse cose io lo conoscevo malapena quel tizio su malapena come si chiamava non saprei bisognerebbe capire i particolari è una cosa che direbbe mia nonna ma il fatto è questo noi abbiamo capito che tu questo tizio cazzo non lo conosci adesso prova condensarlo in una battuta io neanche lo conoscevo giusto giusto ma un attimo aspetta un attimo puoi dire che conosci anche le mie battute adesso possiamo possiamo lasciare da parte le battute un attimo possiamo concentrarsi su quello che c'è adesso possiamo analizzare il test magari ok adesso prova prova a ridarmi le stesse battute ma in meno battute chiaro quindi prova certo io sono una persona sbagliata a cui chiedere ecco il punto eccolo il punto io sono una persona sbagliata a cui chiedere lui dice ma io penso va fanculo io penso fanculo amico fanculo non mettermi nella merda non mettermi in imbarazzo con mia moglie mia moglie che è saluta lì proprio lì e quindi io penso allora buttami la battuta addosso come se mi dicessi fanculo come se mi dicessi fanculo capito però me la devi buttare addosso come cazzo come come se mi scopassi è chiaro però lo devi buttare quindi fallo buttami la battuta vai fallo adesso che cosa vuoi dire cosa voglio dire sì che cosa vuoi dire sputami il rosso che cosa vuoi dire vuoi dire forse che l'amore è qualcosa di assoluto sì 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 è questo che voglio dire che in genere di amore di cui sto parlando è un qualcosa di assoluto in genere di amore di cui sto parlando io è un qualcosa che non ti fa uccidere una persona sì allora boss mi devi dire tu ok cosa ne pensi possiamo fare questa cosa insieme sì sì ho un lavoro sì